Il Luna Park è un po' troppo lontano per andarci a piedi. È vicino al centro sportivo. Si può prendere la metropolitana, la linea rossa. Scendete alla fermata Piazza Garibaldi e all'uscita vedrete subito il Luna Park. Non dovete attraversare il fiume. Se volete comprare i biglietti qui, costano uguale, ma non dovete fare la coda.